Ragazzi, oggi parleremo di un caso veramente assurdo, una persona che ha cercato in tutti i modi di diventare famoso e arrivando a sognare di diventare un serial killer. Vi dico solo che il suo mito era niente poco di meno che Jeffrey Dahmer, che forse qualcuno di voi lo conosce anche per la serie Netflix. Se non lo conoscete comunque potete andarvi a recuperare il video che ho fatto su questo argomento. E inoltre volevo anche ricordarvi, se non l'avete già sentito in altri video, che sto realizzando il mio primo videogioco. Sono veramente orgoglioso di quello che siamo riusciti a creare. Chi volesse provare la demo ve la mando appena disponibile, basta che vi iscriviate al mio sito Serafini Production e quando è disponibile ve la mandiamo. E veramente ci ho messo tantissimo me stesso all'interno. È per quello che sono tanti mesi che non mi vedete qui sul canale, ma sappiate che passo praticamente tutte le giornate a lavorare a questa cosa. E sono veramente contento di tutte le persone che mi stanno aiutando a realizzare questo mio progetto, che era proprio un piccolo sogno. E tra l'altro non finisce qui, perché oltre ad Unfollow stiamo lavorando anche con i ragazzi di Intel a Navigavia, su una storia originale ambientata comunque in un loro universo, anche grazie a Luca Occhi che mi sta molto aiutando. E quindi spero che vi piaceranno questi sforzi e queste cose che stiamo realizzando. Io vi lascio a questo caso che mi ha veramente sconvolto, sembrava veramente un film dell'orrore. Il caso di oggi ci porta a Darlington, nel nord-est dell'Inghilterra, una città con qualche migliaio di abitanti, piccole stradine, caffè eleganti e un'atmosfera tranquilla che fa sentire al sicuro. Ma come sempre, non tutto oro è quello che luccica. Darlington ha un altissimo tasso di disoccupazione e, come spesso accade, l'insoddisfazione e troppo tempo libero portano molte persone a trovare rifugio nell'alcol e nell'abuso di sostanze. Questo è quello che succede al giovane David Harker nel 1999. Non ha un lavoro da molto tempo e ha preso l'abitudine di passare le giornate a bere. Nonostante questo, le persone che lo conoscono sono convinte che non sia capace di fare del male agli altri. David si era trasferito a Darlington nel 1995 alla ricerca di un nuovo inizio. Aveva avuto un'infanzia difficile e un'adolescenza problematica, con costanti rapporti con le forze dell'ordine per un motivo o per l'altro. A 23 anni, David fa parte di una gang di teenager della città. Il suo miglior amico, Matt, ha solo 16 anni. David è molto alto, più di 1,80 m, e spicca all'interno del gruppo di ragazzini che frequenta. Capita spesso che passi dei periodi a casa di Matt quando non sa dove andare, ma è sempre gentile, aiuta gli amici con la spesa e li segue nei compiti. Le cose stanno cambiando e in meglio. Alla fine degli anni 90, David incontra una giovane ragazza, Becky, e i due si innamorano subito. Dopo poco tempo, decidono di andare a convivere e fanno amicizia con i vicini. Purtroppo, la relazione non funziona e dopo un anno, David e Becky si lasciano e la ragazza si trasferisce. Per David è la fine, letteralmente. Incomincia a bere molto di più di prima e passa interi pomeriggi al parco, bevendo vino su una panchina. Ovviamente, questo non fa che peggiorare il suo stato d'animo. In questi mesi di alcol e abuso di sostanze, David incontra Julie Peterson. Anche lei, tossicodipendente, i servizi sociali le hanno tolto la custodia dei figli e si è data all'abuso di Valium. Ma questa è solo l'ultima delle molte dipendenze della donna. Anche Julie si è trasferita a Dellington per lasciarsi alle spalle una bruttissima infanzia e una vita difficile. Alla fine ha incontrato Alan e i due sono stati insieme per tre anni. A un certo punto della relazione, la donna rimane incinta del quarto figlio. Ma lei e Alan decidono che è meglio darlo in adozione per dare al piccolo una vita migliore. Questo spezza il cuore di Julian e la porta sempre più a fondo nella spirale della dipendenza. Prende l'abitudine di andare via di casa per giorni. Quando torna è sporca, con i capelli arruffati e confusa. Andava in giro con i senza tetto e i tossici della città. Giulia è una persona estremamente vulnerabile, mentre Alan è perso. Non sa cosa fare per aiutarla, a parte stare ad aspettare che torni a casa. Spostiamoci adesso al 6 aprile del 1999. Giulia esce nuovamente di casa, dopo essere rimasta turbata vedendo dei filmati del Coronation Day in televisione. Alan fa quello che fa sempre, aspetta che torni, ma i giorni passano e di lei nessuna traccia. Il ragazzo va anche agli appuntamenti di Giulia e lì incontra il suo dottore e le figlie. Alla fine decidono di denunciare la scomparsa della donna. Sono ormai passate quattro settimane. Ma Alan spiega ai poliziotti che non è la prima volta che la donna spariva. Per questo motivo non si era presentato prima. La polizia di Darlington si rende subito conto che Giulia è una persona molto vulnerabile che potrebbe facilmente essersi messa nei guai in quel lasso di tempo. Dal momento che le indagini locali non portano a nulla, gli inquirenti si rivolgono alla stampa, fanno pubblicare una foto della donna e sperano che qualcuno che l'ha vista chiami in centrale. Alcuni giorni dopo un testimone telefona dice di aver riconosciuto la donna dai giornali e che aveva parlato con lei e con David. Consiglia alla polizia di andare a indagare a Pallon Lane. Alle 2.30 del mattino il detective Ian Phillips arriva sul posto. L'intera area è già stata circondata dai suoi uomini, visto che i cani avevano trovato una borsa sospetta. Una donna che vive in zona ha detto che la borsa si trovava lì da un paio di settimane. L'odore proveniente dalla sacca era terribile e il detective decide di aspettare l'alba per aprirla. Alla luce non è difficile riconoscere la sagoma di un paio di scapole umane all'interno della borsa. Julie era stata uccisa e poi fatta a pezzi. La borsa contiene solo alcune parti del corpo della donna, ma non vi è traccia delle altre in quell'area. Questa informazione fa venire la pelle d'oca a tutti gli abitanti della città. Darlington è sempre stato un posto pacifico e nel corso della sua storia non vi erano mai praticamente stati case di omicidio. Il 18 aprile David aveva raccontato all'amico Matt di aver ucciso Julie, di averla fatta a pezzi e di aver messo i suoi arti in una borsa che aveva abbandonato a Pallon Lane. Ma David non era nuovo a storie assurde in cui cercava di farsi passare per un cattivo ragazzo che avrebbe ucciso gente nelle buie stradine della città. Inoltre quando aveva raccontato quello che aveva fatto a Julie era ubriaco, quindi Matt aveva pensato che si trattasse di un'altra delle sue assurdità e non aveva dato peso alle sue parole. Quando però Matt viene a sapere della sparizione di Julie indirizza la polizia a Pallon Lane e successivamente a David Hacker, il protagonista di questa storia. L'uomo viene portato alla centrale per essere interrogato, va volentieri alla polizia e da la sua versione dei fatti in aprile aveva incontrato una donna di nome Roxanne che non aveva niente a che fare con Julie. Ma durante il secondo interrogatorio, quando i poliziotti incominciarono a fare domande con più forza e mettendolo sotto pressione, David si mostrò molto agitato. Dice che non è stato lui, che sono state le virgolette voci a dirgli di farlo. Finalmente la polizia ha un motivo per andare a perquisire casa sua. Quando aprono la porta, trovano davanti una scena macabra, una scea di sangue che partiva da un ripostiglio sotto le scale. Trovano i vestiti di Julie e il suo sangue. Le scarpe della donna sono su una mensola della cucina, pulite come un macabro trofeo. Gli inquirenti trovano poi su un muro una sorta di poesia in cui David dice di, virgolette, aver perso la voglia di vivere, ma di essere risorto con la grandezza di un dio. David Hacker viene arrestato e accusato dell'omicidio di Julie. L'uomo non accetta l'evidenza, è irrimovibile, lui è la vittima delle voci. Sono state le voci a dirgli di farlo. La polizia vuole giustizia per la famiglia della ragazza e cerca il corpo ovunque, nel fiume, nei tombini, nelle boscaglie. Un gruppo di 50 persone esamina più di 200.000 tonnellate di rifiuti di una discarica. Le ricerche risultano purtroppo vane e dopo un po' le autorità si arrendono. Spostiamoci adesso al 21 luglio del 1999, quando viene celebrato proprio il funerale di Julie, purtroppo senza il suo corpo. Nel frattempo David Hacker viene trasferito in un ospedale psichiatrico per essere sottoposto a una valutazione specialistica. Appena arrivato, incomincia a parlare dell'omicidio. Voleva essere ricordato come il più giovane serial killer della storia della Gran Bretagna. Sembra che Julie fosse solo la sua prima vittima. Si vantò di aver ucciso altre due persone, ma la polizia non trovò prove di questi delitti. David confinò inoltre agli altri ospiti della struttura di aver mangiato la coscia di Julie con un piatto di pasta al formaggio e aglio. Si scopre che l'eroe di David è niente poponi meno che Jeffrey Dahmer, il killer cannibale. La polizia però non è stata in grado di trovare prove che David abbia effettivamente mangiato una parte della sua vittima. I medici dell'ospedale dissero che David era uno psicopatico. Non solo non prova empatia e non può, né tantomeno vuole, distinguere tra giusto e sbagliato, ma vive in una fantasia personale in cui è un killer famoso come il suo mito Jeffrey Dahmer. Per tutta la vita David ha cercato la fama, prima come rockstar, poi dopo anni di disoccupazione, depressione, rabbia e abuso di sostanze, decide di diventare un famoso assassino. Al momento è in prigione e nell'ottobre del 2021 gli è stata negata la libertà vigilata, dal momento che non ha mai rivelato dove si trovasse il corpo. Anzi, come ultimo gioco malato, David ha inviato a un giornale un indovinello affermando che, una volta risolto, sarebbe stato possibile trovare il corpo di Julie, che recita queste parole Eccoci arrivati alla fine di questo caso. Cosa ne pensate? Avete una soluzione a questo indovinello? Lasciatemi la vostra ipotesi qui sotto in un commento. Io vi ringrazio di aver visto questo caso e spero di vedervi alla prossima.